Come potete ben vedere? Fai vedere i partiti decenti? Ma sti cavalli qua? Che cazzo? Non si possono fare! Bene a tutti ragazzi, ben ritrovati su Conqueros Blade Siamo tornati dopo un'esperienza non proprio molto convincente Eeeh... Il nostro compagno d'avventure Con cui vi lascio il suo canale in descrizione Mattio? Salve Salvino Sa molto bene cosa abbiamo subito quel giorno Andiamo su C Sì, su C come coglioni frantumati, come sempre Sperando che... Eh, il cavallo è il mio nemico Eh, infatti, vedete? Lascia lì al canyon, l'entrava Ah, aspetta Eh no, vabbè, ormai Mi ha portati qua Oh, il cazzo Vai arcieri, tira via Come l'hanno con questa? Top agenda Sono spostati ai carcieri Chi è quella? Va a stare un bowman Long bowman, Cristo Oh, che cazzo vuoi? Guarda questo Electron Ah, cretino Danner Oh, ma stai squadra con noi, da? Danner è un altro nostro convincitone Ah, cazzo, ma che cazzo Morto Fuga Ma che è solo l'hug infinito? Attenzione! Vabbè, apre la materia Vabbè, passano attraverso Ebbè, è giusto Che cazzo mi significa? Come tutte le cavanerie del mondo E stavolta no, però Stavolta abbiamo messo dritto un'encoo Morca vai amor Eh, dorrrr Popopopopopopopopopopopopopopopopopopop mannaggia tutto e moda e dei rimori genere anche per caratteria fuga e le ha detto cazzo stiamo solo noi come potrebbe vedere fare dei partiti decenti questi cavalli cuori non si possono fare 4.000 di ving tu quando stai 56 che prova a 200 500 comunque c'è la cavalleria dovrebbe essere leggera e che fa male non immortale e che muove che ti uccide in questa è una king è stata fatta avanti da un buon anno m e mi rubano le vie foro per me la giusta c'è me ne so guarda sono tutti interi non è possibile quale secondaria un secondo che ci siamo allontanati Nooo, arriva cavalleria nemica qua! Sempre cavalleria! I nemici hanno solo cavalleria! Eh, guarda la nave che... I nemici hanno solo cavalleria! I nemici hanno solo cavalleria! Gli eroi nemici sono in questa guerra! aiuto damn mannaggia damn ah io non ho prendo in press vabbè abbiamo perso dietro cavalleria vabbè ho perso pure 1700 monete e mi ci costano solo gli arcieri va bene ragazzi il video finisce qua spero che il video vi sia piaciuto una vista per botti in cuvo e niente noi ci vediamo per un prossimo video ciao ragazzi